Buonasera a tutti, ben ritrovati qua su Radio Space International e voluto con voi. Facciamo un po' di musica adesso, insomma, diciamo che sta andando abbastanza bene, andiamo abbastanza bene, ok, che mi raccontate di bello stasera, vediamo la regia che cosa mi mette, e che cos'è sta roba qua che sto sentendo in cuffia? Ma cos'è sta roba? Ma non possiamo trasmettere certa porcheria? Ma chi è sta qua? La cinta, la Ginevra Mi piace anche sputtare sul cazzo, mentre faccio un pompino tutto spurno, un bagno con cazzo Ecco, solo mi... Mi piace più farla padrona o la schiava? No, no, padrona, padrona, sì, mi piace dare sculacciate, uomo che ce l'ho sottuto, solo padrona, io schiavo mai fatto e no, 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 non mi piace, non mi piace. Sei padrona? Sì, sì, sono solo padrona assoluto. Fammi vedere un po' la tua pazzolina. ma cos'è sta roba che avete trasmesso vabbè andiamo avanti con la musica va che è meglio dov'è ecco qua verrà il giorno di star buoni in una piccola città dentro un bar con gli ombrelloni e se piove ma che fa ricevendo cartoline dagli amici preoccupanti lontani continenti e fissare i lampadari e riverniciare i muri e restare io e te soli vedrai amica mia che bello che sarà scoprir la calma la serenità e si respirerà ci si divertirà non poco sai così con povertà scambiarsi cortesie da noi periferia vedere i mille treni andare via per non cercare più guai per restare tra di noi verrà il giorno prima o poi verrà il giorno di star buoni e di non viaggiare più non vedere più stazioni da un ponte non guardare giù imparare a cucinare sveglia presto e camminare la domenica pescare la domenica pescare e sfogliare qualche libro calmi la su una poltrona mentre fuori il tempo vola vedrai amica mia che bello che sarà rispolverare la tranquillità e con semplicità passare tra le vie con un sorriso buono tutti e due e farci compagnia e stare in allegria e avere sempre pronta qualche idea per non cercare più guai per restare tra di noi verrà il giorno prima o poi A presto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.